Mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse, sono tutti un po' traballanti, tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta, cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è cosa facile, ma dopo un po' ce la si va, certo non si può pretendere che uno concentrato com'è per stare in piedi possa occuparsi degli altri, del mondo, insomma possa pensare, no, ma a parte questo la gente non ci fa neanche molto caso, ma sì, l'uomo si abitua a tutto, ognuno ha il suo travallio, chi a destra, chi a sinistra, basta non cercare punti fermi che tanto non sovra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.